Porto Ferraio cambia ancora la viabilità del porto, i lavori sono stati annunciati dall'autorità portuale al sindaco Ferrari, una nuova rotatoria alla radice del molo Massimo, verifiche sul molo Elba. Sabato mattina ai funerali di Jairo, la salma rientrerà all'Elba venerdì pomeriggio, la cerimonia funebre a partire dalle 10 nella chiesa di San Giuseppe, centinaia di messaggi di Cordoglio. Nel 2014 30.000 croceristi all'Elba, nel 2015 previsto un aumento. L'autorità portuale ha partecipato al C-Trade Med a Barcellona, l'impegno promozionale dà i suoi frutti a Porto Ferraio, dice il commissario Guerrieri. Il teruolo rosso continua la strage di palme, tagliate anche le due piante in Viale Zambelli a Porto Ferraio, le proteste dei cittadini. Se non si fa prevenzione perderemo tutto il nostro patrimonio vero. Buonasera cari telespettatori e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione, con le notizie del nostro telegiornale. Apriamo l'edizione del nostro Tg parlando della viabilità portuale di Porto Ferraio. Un problema soprattutto estivo, ma un problema che andrà risolto anche alla luce di quelle che saranno le innovazioni che poi porteranno al nuovo waterfront, al nuovo frontemare di Porto Ferraio. L'autorità portuale proprio in queste ore ha annunciato al sindaco di Porto Ferraio l'inizio di nuovi lavori. Cambierà appunto la viabilità, ci saranno delle novità che sentiamo in questo servizio. Presto nuovi lavori per il porto di Porto Ferraio. Si tratta soprattutto di interventi che riguardano la viabilità. È quanto emerso da un primo incontro che il sindaco Mario Ferrari ha avuto con il commissario dell'autorità portuale di Piombino e dell'Elba, Luciano Guerrieri. Devo riconoscere una disponibilità della Porto Autority a collaborare e a contribuire a degli interventi significativi per l'area portuale di Porto Ferraio. Interventi che sicuramente potevano già essere stati realizzati se la precedente amministrazione avesse trattato con equilibrio, correttezza e allo stesso livello come competa questo comune e con la Porto Autority. Quindi devo ringraziare l'attuale commissario per la completa apertura che vedrà a breve iniziare già dei lavori di miglioramento della viabilità dell'area portuale. Ci può anticipare qualcosa su quali saranno questi interventi? Miglioramento della viabilità parallela al banchinamento. Sottoscriveremo un accordo per questi interventi entro la fine di ottobre in modo che nella primavera quantomeno la rotatoria alla radice del molo massimo possa essere attivata con l'inizio dei lavori. Quindi i lavori termineranno prima della prossima stagione turistica. In seconda battuta è ipotizzato anche l'intervento della Porto Autority sulla rotatoria in corrispondenza del semaforo che attualmente è stato sostituito da una rotatoria provvisoria che ha dato ottimi risultati. Abbiamo parlato anche del molo Elba perché ha necessità e bisogno di un risanamento e verranno effettuati dei saggi a breve in modo da mettere poi in cantiere il relativo progetto. E voglio anticipare anche un altro aspetto. C'è una disponibilità della Porto Autority anche a collaborare nell'ambito delle manifestazioni napoleoniche a dotare Porto Ferraio veramente di un vero e proprio monumento a Napoleone, opera del nostro concittadino ed artista Italo Bolano. Torniamo all'attualità, adesso un'attualità che è stata segnata dai lutti piuttosto pesanti nei primi giorni di questa settimana. L'Isola d'Elba, uno in particolare ha scosso la comunità portoferraiese e non solo, di tutta l'isola la morte di Jairo Piccinini. La notizia di oggi è che i funerali di Jairo si svolgeranno sabato mattina alla chiesa di San Giuseppe a Porto Ferraio. Intanto sui social media si moltiplicano i messaggi di cordoglio di chi l'aveva conosciuto. Rientrerà all'Elba nel pomeriggio di venerdì 26 settembre la salma di Jairo Piccinini. Trentasettenne originario di Lecco ma residente a Lacona e soprattutto conosciutissimo in tutta l'isola. Dopo la riconsegna delle spoglie del ragazzo ai familiari, i funerali avverranno sabato 27 settembre con un rito religioso che si terrà a partire dall'ore 10 a Porto Ferraio nella chiesa di San Giuseppe. Intanto ha suscitato grande sconforto in tutta l'isola d'Elba la notizia dell'incidente che è costato la vita a Jairo. Sono centinaia i messaggi che sui social network, amici, semplici conoscenti o comunque persone che lo hanno conosciuto in vita hanno lasciato e continuano a lasciare per esprimere la propria commozione e salutare la sua prematura scomparsa avvenuta in uno sfortunatissimo incidente stradale nella mattinata di martedì 23 settembre. Jairo Piccinini era molto noto oltre che per il proprio carattere aperto e gioviale per essere il co-titolare della ditta Bastià Uno e Coinerti di Porto Ferraio. Lascia la compagna Claudia e Matteo, un bambino di 8 anni oltre alla mamma Lilia Guizzardi ai quali si uniscono ancora una volta idealmente con un abbraccio tutta Tele-Elba e Tienews. L'abbiamo già detto nel servizio ma lo ripetiamo anche noi personalmente ci uniamo idealmente in un abbraccio al cordoglio della famiglia di Jairo. Cambiamo argomento, parliamo del verde pubblico e soprattutto di una pianta, la palma che è costantemente insidiata a Porto Ferraio per ora ma purtroppo se non si fa qualcosa il fenomeno si allargerà dal punteruolo rosso, una vera e propria sciagura per le palme. L'infestazione da punteruolo rosso significa morte sicura. Per questi alberi c'è soprattutto un allarme legato alla prevenzione. Sentiamo i particolari in questo servizio. Le palme di Porto Ferraio continuano ad essere infestate dal punteruolo rosso. Quelle che saltano agli occhi sono alcune piante sul viale Zambelli che in queste ore sono state tagliate dalla ditta incaricata dal comune di Porto Ferraio, estremo tentativo per evitare il diffondersi del coleottero che sta minacciando quello che oramai è un bene di tutti. Pur non essendo una pianta autoctona infatti la palma fa parte oramai del nostro paesaggio in certi casi con insediamenti rilevanti nel panorama del patrimonio culturale ilbano e che devono essere tutelati ad ogni costo. Già dal 2013 si diffuse l'allarme punteruolo rosso che oramai è diventato un dato di fatto come ha scritto su un noto blog l'agronoma Alessandra Puccini consigliando trattamenti preventivi periodici. Una volta che il coleottero si è insediato nella pianta infatti non resta che abbatterla senza possibilità di scampo perché a quel punto non esistono cure. E' proprio questo il timore di molti che le palme che svettano a Porto Ferraio via via debbano essere tagliate e che resti poco o niente di quel patrimonio che abbellisce la nostra città. Non sono state oggetto di alcuna prevenzione affermano alcuni cittadini avendo provveduto all'amministrazione solo all'abbattimento oltretutto dopo molto tempo dal manifestarsi del problema. Questo nonostante lo stanziamento di fondi regionali finalizzati al contrasto del fenomeno con un piano di azione improntato sulla prevenzione sul tempestivo intervento al sorgere dei primi sintomi. Intanto a Porto Ferraio le palme di Viale Zambelli stanno scomparendo sotto le lame delle seghe elettri e delle macchine che le triturano e non è tutto perché anche la palma in fondo a Vianinci sembra essere stata attaccata dal punterolo rosso. Intanto cresce la preoccupazione anche dei privati che qualora le loro piante venissero attaccate sono obbligati a abbatterle e distruggerle facendo eseguire i lavori da una ditta specializzata con costi molto elevati. C'è chi tenta trattamenti di prevenzione ma deve fare conti con i ritardi di intervento da parte del pubblico che non argina adeguatamente la diffusione del punteruolo. Per questo motivo molti per evitare ulteriori balzelli hanno provveduto ad eliminare per conto proprio piante sane prima che venissero attaccate e così muta sempre di più il paesaggio a scapito del verde. Parliamo di turismo adesso. Buone notizie dal settore croceristico. 30.000 i croceristi arrivati all'Elba nel 2014. la cifra record nel 2015 è destinata ad aumentare. Sentiamo perché. L'autorità portuale di Piombino e dell'Elba al Sea Trade Med a Barcellona il salone espositivo dedicato al mondo delle crociere nel Mediterraneo dal 16 al 18 settembre. Presente anche il porto di Portoferraio all'interno del padiglione organizzato da MedCruise l'associazione che riunisce i porti croceristici del Mediterraneo per consolidare i rapporti con le Cruise Lines che già conoscono le offerte turistiche dell'isola e per presentarle invece a quelle che non sono a conoscenza della possibilità di fare scalo con le loro navi da crociera nel porto elbano. L'impegno promozionale profuso dall'autorità portuale e dagli operatori sta dando i suoi frutti visto l'incremento tendenziale che Portoferraio sta registrando, afferma il commissario dell'autorità portuale di Piombino e dell'Elba, Luciano Guerrieri. Infatti per il 2015 sono già stati programmati oltre 100 scali con un incremento degli arrivi della costa Neoriviera migliorando il risultato già notevole registrato quest'anno che vedrà l'arrivo di oltre 30.000 croceristi sull'isola. Nell'ambito della manifestazione si è svolta anche l'Assemblea Generale di MedCruise che ha eletto il nuovo presidente e il nuovo board nel quale è stato rinominato Giampiero Costagli responsabile della promozione dell'autorità portuale e unico rappresentante dei porti italiani. La polemica adesso legata alla prematura chiusura della Villa Romana delle Grotte. C'erano dei buoni presupposti con la nuova gestione da quest'anno delle ragazze di Archeocolor. Adesso la chiusura anticipata mette un po' in dubbio il futuro di questa struttura che potrebbe essere valorizzata in maniera estrema per l'isola d'Elba ma che invece stenta a decollare. Sentiamo perché. La minoranza consigliare di Portoferraio ha presentato una interrogazione sulla chiusura della Villa Romana delle Grotte da inserire nel Consiglio Comunale convocato per il 29 settembre, ultimo giorno di apertura del sito archeologico. L'interrogazione arriva a poche ore dalla notizia sulla decisione della Fondazione di rescindere il contratto senza motivazione alcuna e interrompendo bruscamente il rapporto di collaborazione che si era instaurato con la neonata associazione dopo mesi di intensa contrattazione. Ai più fanno presente Pellegrini, Giuzio, Mazzei e Andreoli. Potrà sembrare uno dei tanti comunicati di fine stagione. Un saluto al prossimo anno magari con la collaborazione dell'amministrazione e dei proprietari della villa che, ricordiamo, è essere privata e far capo al dottor Marcello Pacini attraverso la fondazione Villa Romana delle Grotte. A chi è attento e partecipe alla vita culturale di Portoferraio, continuano i consiglieri, sa che le cose non stanno così. L'entusiasmo, l'intraprendenza e la fantasia delle tre giovani archeologhe avevano fatto sì che la villa non fosse solo un sito da visitare, ma anche un luogo di incontro, di formazione ed attività didattiche. Oltre 4.500 ingressi in circa tre mesi, numerose iniziative svolte con non poche difficoltà avevano fatto apprezzare ai moltissimi visitatori la serietà e la competenza delle archeologhe. Ricorda la minoranza che l'amministrazione comunale presente all'inaugurazione nello scorso maggio e poi in altre pubbliche occasioni ha sempre fatto pensare di voler sostenere questa coraggiosa iniziativa. Nei fatti, puntualizzano, non è stato così. Non ha trovato il tempo di convocare un incontro con la proprietà, i gestori e magari la soprintendenza che aveva da sempre visto con favore la nuova attività volta alla tutela e valorizzazione di un bene chiuso al pubblico da oltre due anni. Nessun sostegno ad un'attività di tre giovani professioniste che alla loro prima esperienza lavorativa ne escono deluse ed amareggiate, sconfortate da una mancanza di interesse da parte delle istituzioni se non di facciata e da un incomprensibile comportamento ostile da parte della proprietà. La lotta è stata impari, secondo il gruppo che fa capo a Cosetta Pellegrini, Davide contro Golia, dove Golia si è presentato sotto le vesti di un disinteressato mecenate desideroso di restituire la villa alla collettività e di sostenere l'attività di tre giovani ragazze ma invece, presumibilmente, celava solo un interesse a risolvere i suoi problemi di gestione, tutela e sicurezza più volte sollecitati dalla sovraintendenza. I consiglieri di minoranza quindi chiedono agli amministratori perché non si è cercato di tutelare un'attività che aveva restituito un bene pubblico ai cittadini. Non è stato tutelato il lavoro di giovani imprenditori, non si è sostenuto un progetto che nei prossimi tre anni avrebbe riqualificato e valorizzato il percorso romano della città di Portoferraio e un sito di grande valore storico, archeologico e culturale. Chiediamo inoltre, terminano, quali azioni metteranno in campo concretamente e con quali tempi affinché il sito torni ad essere fluibile e sia gestito con la stessa professionalità e competenza, visto che l'esperienza archeocolor sembra essersi conclusa prima ancora che si raccogliessero i frutti di tanto lavoro. Siamo a Capolivere adesso per darvi con qualche giorno di colpevole ritardo una notizia che però vale la pena di raccontare, una festa dedicata alle suore di Capolivere, una festa a suon di musica, è successo proprio in concomitanza del bel concerto della Fisiorchestra Marchigiana, degli specialisti della Fisiarmonica che si sono esibiti poi il giorno dopo per le suore Capolivere, in servizio. Una ricorrenza religiosa che si è trasformata in una festa a suon di musica, è successo a Capolivere domenica 7 settembre, protagoniste le religiose dell'Ordine delle Oblate, catechiste piccole serve dei poveri che sono a Capolivere dal settembre del 2010 e i musicisti della Fisiorchestra Marchigiana di Castelfidardo. Questi ultimi, la sera precedente, erano stati apprezzatissimi i protagonisti di una serata musicale in Piazza Matteotti, rimanendo a loro volta sorpresi dalla proverbiale ospitalità capoliverese. Venuti a conoscenza del fatto che il giorno dopo le suore dopo ogni messa avrebbero offerto un piccolo rinfresco fuori della chiesa per festeggiare i cento anni della loro fondazione e per ringraziare la comunità capoliverese per l'accoglienza ricevuta, il presidente della Fisiorchestra, Marcello Borselli, ha telefonato agli organizzatori dicendo che i suoi ragazzi avrebbero avuto piacere di rendere omaggio alle nostre suore facendo una suonatina dopo la messa delle 11. I fisarmonicisti si sono così presentati con tutto il gruppo delle fisarmoniche al completo, con due tamburi e il direttore che li dirigeva. Quando le suore hanno saputo che quei bravi musicisti erano lì per loro, hanno pianto di gioia e di commozione, ma come tutti gli africani hanno dimostrato di avere la musica nel sangue e non hanno resistito al ritmo. Sono partiti quindi una serie di canti religiosi nella loro lingua, le suore sono originari del Benin, attirando decine e decine di curiosi che hanno praticamente bloccato via Roma davanti alla chiesa, pronti ad applaudire. Parliamo di sport, adesso un importante avvenimento agonistico di vela ad alto livello, un campionato europeo si è svolto nel fine settimana a Rio Marina, tanta la soddisfazione che i riesi hanno già chiesto, hanno già avanzato la candidatura per il prossimo campionato del mondo. In servizio. Quattro giorni di festa, tre per le regate, due passate in mare, cinque prove valide. Questa la sintesi del campionato europeo X41 One Design di Rio Marina. Rio Marina e il centro velico ilbano hanno centrato in piano l'importante appuntamento con questa impegnativa manifestazione di livello internazionale. Già da giovedì mattina è stato chiaro fin da subito che il campo di regata sarebbe stato all'altezza dell'evento ed il vento non è tardato da arrivare. Le tre prove che si sono svolte hanno subito messo in chiaro quale degli equipaggi fosse uno dei principali candidati al titolo. WB5 dell'armatore Gian Claudio Bassetti si aggiudicava due prove su tre seguito dall'equipaggio di Lecocca RD, barca attimonata dall'espertissimo Matissep, ventesimo nella ranking list mondiale di match race. Nel secondo giorno di regata bel primo posto per Extra One che approfittava dell'intenso match race tra WB5 e Lecocca RD che concludevano rispettivamente secondi e terzi. Nel terzo giorno di regate una poco fortunata giornata di monaccia non consentiva lo svolgimento di regate. WB5 si aggiudicava quindi il titolo di campione europeo della classe X41. Sono felicissimo, sono state regate esaltanti su un bellissimo campo di regata detto Bassetti che è anche presidente della classe X41 italiana. Rio Marina è un'eccellente location per eventi di qualità aggiunto. Per l'isola delba questo importante evento sportivo è stato la conferma delle enormi possibilità che Rio Marina può esprimere nell'organizzazione, gestione e promozione di eventi anche a livello internazionale. Per oltre quattro giorni atleti italiani e stranieri hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare l'ospitalità e le caratteristiche locali, cosa che avrà per il futuro, importanti e positivi riflessi mediatici ed economici. A fine manifestazione l'annuncio del direttore sportivo del centro velico elbano Corrado Guelfi ci candideremo per organizzare nel 2015 il campionato mondiale della classe X41. Nell'ultima parte del nostro telegiornale parliamo di arte. Espone dal Libraio da questo fine settimana uno degli artisti più conosciuti all'elba, Sergio Marianelli. Il fantastico mondo di Sergio Marianelli in esposizione da Il Libraio dal 28 settembre a domenica 5 ottobre. Cosa ci possiamo aspettare da questa esposizione? I miei quadri che rispecchiano la mia personalità, sono personaggi, sono paesaggi, alberi, natura. Però ha anche una Portoferraio e un'elba vista con altri occhi? Sì, una Portoferraio antica diciamo perché a me piace molto come era prima Portoferraio e allora questi quadri li ho fatti anche in bianco e nero appunto per riprendere un po' il periodo. Ci sono anche personaggi? Sì, molti personaggi, contadini, pescatori, personaggi nudi che io praticamente quando ho iniziato a lavorare ho fatto tanti personaggi nudi, ho cominciato con quello e mi piace ritornarci. La tecnica di Sergio Marianelli? E' terre colorate, acqua e colla bianca. Sono praticamente una tempera che miscelando acqua e colla bianca e come elegante uso il bianco da muro, il normalissimo ducotone. L'inaugurazione della mostra è domenica 28 settembre alle ore 12 con un aperitivo. E lunedì prossimo è festa a Montefabrello, si celebra la sesta edizione della festa di fine vendemmia dedicata alla zampicatura dell'anzonica sul palmento. Di che cosa stiamo parlando? Ve lo raccontiamo in questo servizio. Lunedì 29 settembre presso l'azienda agricola Montefabrello si terrà l'ormai tradizionale festa di fine vendemmia, giunta quest'anno alla sua sesta edizione. La festa nata da un'idea del titolare dell'azienda Montefabrello, Dimitri Galletti, per valorizzare e rilanciare la tradizionale zampicatura dell'anzonica, ovvero la pigiatura con i piedi dei grappoli dell'uva, in un palmento in granito, riproduzione di quelle anticamente presenti sull'isola, è diventata ormai un punto di riferimento per gli appassionati e gli addetti ai lavori dell'enogastronomia elbana, anche perché segna di fatto la fine della stagione della vendemmia. Quella di quest'anno è stata decisamente una vendemmia anomala, ci ha detto Dimitri Galletti, a mia memoria non è mai successo all'elba che l'uva facesse fatica a maturare, anzi abbiamo sempre avuto problemi contrari. Ovviamente ci sono situazioni diverse, da produttore a produttore, a seconda della diversa posizione dei vigneti, ma quest'anno il tempo, soprattutto in luglio, ci ha messo in difficoltà e non c'è mai stato gran caldo durante tutta l'estate. Questo porterà ad un'annata con dei vini bianchi e di minore gradazione alcolica, ma soprattutto a risentirne saranno i vini rossi e i passiti. In effetti alcuni produttori hanno ancora parte dell'aleatico sulla pianta, perché non ha ancora raggiunto la sua tradizionale colorazione, mentre come da tradizione l'anzonica sarà l'ultimo vitigno ad essere vendemmiato. La festa di fine vendemmia a Monte Fabrello inizierà intorno alle 12 di lunedì 29 settembre, con l'arrivo delle prime cassette di uva sul palmento e l'inizio della zampicatura dell'anzonica. Anche quest'anno è prevista e collegata all'evento un'iniziativa benefica. Nel 2013 fu indirizzata all'associazione L'Amico del Cuore, mentre quest'anno si è deciso di contribuire ad un'iniziativa a favore degli anziani che il circolo culturale Sandro Pertini sta curando presso la RSA di Casa del Duca. L'azienda agricola Monte Fabrello, infine, nell'occasione della festa, consegnerà una targa a ricordo alla famiglia di Placido Ruggeri, recentemente scomparso, che fin dalla prima edizione ha contribuito attivamente all'istaurarsi di questa tradizione. Grazie a tutti!